i due fumati vanno entrano nel tunnel della droga se di lì non ci pensare i due fumati entrano nel tunnel almeno qua l'oscurito mia è che sopra l'oscurito quasi il tunnel delle anime perse in teoria ci si passa anche di qua noi ci passiamo adesso che ha acceso la luce si vede via ma va appena appena pensavo di fare il turbo ok 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 bravo, Mizzica senti come slittica, qua ci vuole un'altra scaletta, se conosci i sassi vieni qua ma da un sassi all'altro c'è dentro il buchino che non c'era il buchino che non c'era il buchino di mezzo metro no no giriamo indietro, qua ci vuole un'altra scaletta, messa lì che puliamo tutto fino in fondo e vieno giù fino al fiume io metto giù i piedi sotto il tunnel perchè ho paura che tu fassi via via, girare e torniamo indietro non spingerla troppo giù magari si passa a spanti adesso sul coso vi gridiamo, aiuto no